Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura. Parliamo di sanità. Oltre 400 cittadini hanno partecipato questa mattina alla manifestazione indetta dal comitato Avanti Tutta contro il declassamento dell'ospedale di Popoli. Il comitato sarà ricevuto venerdì prossimo 7 aprile dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il servizio di Alfredo Primante. Qui non molleranno i sindaci, non molleranno i comitati, non molleranno i cittadini e continueremo la battaglia tutti insieme. No alla chiusura dell'ospedale di Popoli. Lo hanno detto a gran voce con un sit-in davanti alla sede della regione Abruzzo a Pescara i cittadini e i sindaci di 22 comuni della Valle Peligna, della Val Pescara e dell'Alto Piano di Navelli assieme ai rappresentanti del comitato che si batte per la salvaguardia del presidio ospedaliero. In ballo c'è il futuro del Santissima Trinità, segnato dall'applicazione del decreto Lorenzine destinato al declassamento. Al momento le speranze dei cittadini e dei rappresentanti politici locali sono legate da un lato all'emendamento al decreto terremoto presentato dal deputato PD Castricone per congelare l'applicazione del declassamento, dall'altro alla mozione di Forza Italia approvata all'unanimità in Commissione Sanità Regionale per impegnare il presidente della Giunta e l'assessore alla Sanità ad istituire il tavolo tecnico per formulare una proposta tecnica di riorganizzazione dell'ospedale di Popoli. Proposta che però i rappresentanti del comitato avanti tutta hanno già ideato e messo su carta in una legge regionale di iniziativa popolare che a breve verrà protocollata. Non è una proposta sterile, è una proposta che si basa su dei dati tecnici, sui deliberati stessi della regione e dei vari emendamenti che sono stati fatti. Popoli deve essere riembito di tutto ciò di cui è stato svuotato per ridimostrare che non è un ospedale da chiudere ma è un ospedale da salvaguardare. Il clima della manifestazione si è subito scaldato ed è stato tutt'altro che amichevole. I sindaci avrebbero voluto parlare con il presidente D'Alfonso assente per altri impegni istituzionali. Alle 11 sono entrati in regione ed hanno atteso all'incirca mezz'ora l'arrivo del vicepresidente Giovanni Lolli poi alle 11.35 la decisione di abbandonare la sala filomena degli Castelli e la delusione per non essere stati ricevuti che è stata manifestata così. Io penso che questo sarebbe stato un grande segno di rispetto nei confronti di quelle popolazioni che oggi stanno pagando un prezzo pesante perché noi veniamo penalizzati su tutti i fronti. La sanità pubblica va difesa a tutti i costi perché i nostri cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini della costa. Il problema della politica sanitaria nella Val Pescara è rappresentata anche dal rischio di ridimensionamento se non di chiusura ad esempio del distretto sanitario di Scafa. Il vicepresidente Lolli è arrivato qualche minuto dopo l'uscita dal Palazzo della Regione rendendosi disponibile subito al confronto. Io vi voglio chiedere alla delegazione se vuole venire, io sto qua e l'incontro volentieri. Era alle 11. Scusate ma io stavo da un'altra parte. Però da parte dei cittadini, del comitato e dei sindaci c'è stato un secco no. Il nostro interlocutore, hanno ribadito, è e resta ad Alfonso. Con il presidente l'appuntamento è stato fissato per il prossimo venerdì. Questo pomeriggio si sono svolti i funerali dell'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace. Tante le personalità che sono intervenute nel corso del rito funebre che si è celebrato presso la parrocchia di Sant'Antonio a Pescara. Tante persone hanno voluto dare l'ultimo saluto all'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace, deceduto nella mattina di martedì scorso a causa dei traumi riportati il giorno precedente quando l'ex primo cittadino era stato investito da un automobilista in via Pellico. Cremita la chiesa di Sant'Antonio di Pescara, molti cittadini e diversi esponenti delle istituzioni presenti dal presidente della regione D'Alfonso al sottosegretario Chiavaroli, il presidente della provincia di Pescara Di Marco e tra gli altri il sindaco di Pescara Alessandrini, di Chieti, di Primio, di Montesilvano, Maragno e l'ex rettore dell'università di Chieti-Pescara Crescenti. La messa è stata celebrata dal parroco Don Nicola Petrone, il quale nel corso dell'omelia ha ricordato la figura di Carlo Pace. Politico serio e onesto, quando poteva faceva del bene per la mensa dei poveri di Sant'Antonio e chiedeva sempre se c'era bisogno di qualcosa ai collaboratori, ha detto padre Nicola. Un cuore grande, quello del nostro fratello che oggi siamo qui a salutare. La morte non è l'ultima parola perché noi continuiamo ad esserci nella vita eterna. Al termine della messa la figlia Laura, anche a nome della madre Rossana e del fratello Bruno, ha voluto ricordare il papà. Questa mattina, dopo la visita alla Camera Ardente allestita a Palazzo di Città, questo è il ricordo di alcuni protagonisti della vita politica della città. Mi fa piacere, tra l'altro, riscontrare i grandi affetti intorno alla figura di Carlo Pace, che è il giusto riconoscimento, placate le polemiche del periodo in cui era sindaco, come giusto che fosse, tra destra e sinistra, resta l'opera di un ottimo sindaco della città di Pescara. Girando per la città si riscontrano le attività prodotte da Carlo Pace, che tra l'altro per me è stato anche il sindaco con cui ho iniziato la mia attività amministrativa nella città di Pescara, oltre che un amico. Una persona educata, una persona scelta nel mondo civile, un professore, non aveva mai fatto politica, e si è appassionato al suo ruolo di sindaco con passione, con eleganza e con affetto verso la città. È stato un sindaco per bene, un signore, una persona che ha rispettato sempre tutti, i cittadini, gli amici, quelli che non conosceva, ed era molto attento alla città. Io con lui ho collaborato anche nel consiglio di amministrazione del Museo delle Genti e ultimamente lui mi cercava per avere risorse ancora più importanti per l'Icra, che era la sua creatura. Il sindaco di Tano Maurizio Brucchi ha portato a termine il quarto rimpasto della giunta municipale. Entrano nell'organo esecutivo della città tre nuovi assessori, Alfonso Di Sabatino Martina, Caterina Provisiero e Silvio Antonini. Oggi l'ufficializzazione, vediamo. Tre nuovi ingressi, ma nessuna sorpresa. Parte da questa mattina il lavoro del Brucchi Quater, chiudendo così l'ennesimo rimpasto di giunta. Alfonso Di Sabatino Martina sarà alla ricostruzione al bilancio, Silvio Antonini alla sicurezza urbana e al turismo, Caterina Provisiero alla pubblica istruzione. Dunque questi i nomi nuovi dell'amministrazione terramana, per il resto deleghe invariate rispetto alla terza edizione della giunta. Il sindaco però distribuisce tutte le deleghe che fino ad ora aveva tenuto per sé, motivando la decisione con l'impossibilità di seguire tutte le attività, anche in ragione delle tante problematiche legate al terremoto. Non voglio sentir parlare di sprechi, ha tuonato il primo cittadino, prendendosela con chi aveva criticato la giunta a nove e l'aumento dei costi della politica. In questi giorni si è cercato tanto di decantare i costi della politica terramana. Beh, da questo punto di vista posso, come dire, esprimere un vanto. Noi siamo quelli che costiamo di meno in assoluto, sicuramente in Abruzzo, ma io direi a livello nazionale, perché basta prendere quelle che sono le indennità dei miei pari a livello di comune e capoluogo e vedrete quello che guadagna il sindaco di Teramo. 1.209 euro al mese, basta prendere le indennità degli assessori del comune di Teramo e di un assessore di qualsiasi altro comune e capoluogo. E allora, un'attività di un sindaco o di un'amministrazione può essere criticata. Si può criticare il sindaco per come svolge la sua attività politica, per le risposte che non riesce a dare. Oggi ho anche annunciato che avremo 2 milioni e mezzo di euro, grazie alle assicurazioni relativamente al sisma, per poter fare attività di manutenzione e quindi daremo una risposta importante anche a questo grande problema che in questi otto anni abbiamo avuto. Però vorrei anche sottolineare che questo comune in otto anni non ha contratto un mutuo. Brucchi quindi punta deciso sul rilancio del programma di governo anche per placare i mal di pancia interni alla maggioranza che restano, nonostante i rimpasti. Sbraccio e falasca hanno mostrato segni di insofferenza rispetto al nuovo assetto di giunta. Basteranno i volti nuovi e l'ingresso nella squadra di governo di Di Sabatino Martina a riportare la serenità in maggioranza? Sempre questa mattina il parlamentare del PD Antonio Castricone ha visitato l'ospedale San Massimo di Penne rilanciando la proposta di tornare a investire sul nosocomio Vestino. Il servizio della nostra redazione di Vestina News. L'area Vestina è duramente colpita dagli eventi del scorso gennaio. Un decreto poco fa attuato per queste zone colpite. La sospensione dei tre anni per la riduzione dell'ospedale di Penne. Abbiamo fatto questo decreto, o meglio il governo ha fatto questo decreto, l'abbiamo cercato e siamo riusciti alla Camera a dare della sostanza in più al decreto stesso, sia in termini di risorse sia in termini normativi, per dare risposta a questi territori, a cominciare dal territorio di Penne, sul quale è nata una polemica rispetto al fatto che non è stato inserito nel cratere, che è una cosa sulla quale abbiamo tutti quanti provato dalla Regione, ma noi parlamentari ad inserirlo con gli emendamenti e facendo anche opera politica di convincimento presso il governo. Però purtroppo non siamo riusciti in questo, ma ritengo che all'interno del decreto ci siano comunque delle norme e delle risorse che riguarderanno assolutamente anche il Comune di Penne. E ritengo che anche rispetto alla vicenda dell'ospedale di Penne, l'emendamento che ho presentato io, quello per la sospensione dei 36 mesi del decreto Lorenzin, si possa intervenire in qualche misura anche rispetto a questa struttura. Ma al di là di questo, io ritengo che avendo visitato una struttura che già conoscevo, ma avendola visitata oggi in maniera molto più dettagliata, ritengo che ci sia necessità di investire su questa struttura, innanzitutto in termini strutturali di ristrutturazione edilizia, ma anche in termini di riorganizzare l'ospedale in una maniera funzionale. Noi dobbiamo preservare in una zona come Penne, appunto che è una zona disagiata, questo ospedale. Anche l'ospedale di Penne potrebbe godere di una non riorganizzazione dei posti? Sì, secondo me sì. Una cosa che in parte ho accennato all'assessore Paolucci, con il quale voglio confrontarmi più nel dettaglio, ora che la norma è approvata, c'è un passaggio al Senato, ma potrebbe essere un passaggio formale, carta alla mano, perché io ritengo che quella norma, così come scritta, così come l'ho voluta scrivere, possa interessare anche l'area Vestina e conseguentemente anche l'ospedale di Penne. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, noi dobbiamo ristabilire e recuperare un consenso attraverso la capacità di dare risposte a territori che si trovano in condizioni di disagio. Dopo quasi tre anni Enzo Del Vecchio, ex vice sindaco ormai, lascia il comune di Pescara per andare a lavorare al fianco del presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Del Vecchio questa mattina ha tracciato un bilancio della sua attività in comune. Vediamo. Del Vecchio, allora, oggi lascia ufficialmente il comune di Pescara, l'aggiunta Alessandrini, un po' di commozione e dobbio in questi casi. Lei maschera bene però tutto questo? Beh, non lo so, però insomma c'è stata commozione nell'ultima giunta e anche nell'incontro quotidiano che ho con i cittadini. Però diciamo che oggi presentiamo il lavoro fatto in questi 33 mesi e a dir la verità non mi aspettavo che la struttura che ho avuto il piacere, l'onore di dirigere e rappresentare sul piano politico abbia svolto tanto, ma tanto lavoro nell'interesse della comunità. Abbiamo fatto tanto, veramente. Quali sono, chiedo scusa, Del Vecchio, le opere comunque che l'hanno resa più orgogliosa in questi 33 mesi? Possiamo parlare delle opere strategiche come il Ponte Nuovo, oppure il discorso sull'area di risulta, oppure l'aver avuto il finanziamento della riqualificazione delle periferie, ciò che mi ha veramente reso orgoglioso del lavoro fatto è stata la rappresentanza, il lavoro che ho fatto quotidianamente in giro per la città incontrando i cittadini e soprattutto nei momenti di difficoltà con la protezione civile quando abbiamo avuto problemi soprattutto di allagamento. Lì ho incontrato la città vera, quella che soffre, quella che ha bisogno di interventi e verso la quale non abbiamo dato promesse o fatto promesse vane. Ci siamo impegnati a risolvere le questioni, alcune le abbiamo già fatte, altro c'è ancora da fare e dal mio nuovo ruolo e dalla Regione Abruzzo spero di poter dare un contributo ancora più importante per il risolvimento di queste problematiche. Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci del PD, Lelio De Santis dell'Italia dei Valori, i tre candidati al primario del centro-sinistra all'Aquila per la scelta, appunto del candidato sindaco hanno dato vita ad un atteso confronto svoltosi ieri nella sala del Lance, tanti i temi trattati, in particolare ovviamente la ricostruzione. Germana Dorazio. È stato un confronto pacato quello tra i tre candidati alle primarie della coalizione di centro-sinistra, Lelio De Santis, Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci. In una sala del Lance molto affollata, le stilettate sono volate solamente per il decennio di Massimo Cialente, definito senza troppi complimenti un uomo solo al comando, dal carattere imperativo e troppo accentratore. I tre candidati alle primarie si sono affrontati su vari temi. Si è cominciato parlando di ricostruzione, con un occhio particolare a quella pubblica che va male. Per Di Benedetto bisogna stringere la filiera dei pagamenti, ma rimarca che l'unica ricostruzione pubblica portata avanti è quella dei sottoservizi. Anche per Pietrucci il fattore tempo sarà determinante e assicura l'impegno di far tornare la cittadella amministrativa nei palazzi pubblici in centro storico. Per De Santis, la sede unica del comune è importantissima, non si può più sottostare alla cosiddetta lentocrazia, da quattro anni ci sono le risorse a disposizione. In tema di sicurezza sismica si è parlato di scuole, case e di modello L'Aquila. Sull'argomento cultura si è parlato della necessità di un disegno complessivo. Sull'argomento turismo tutti d'accordo che bisogna valorizzare il gran sasso. Quanto alla stabilità di governo di una coalizione così eterogenea e alle prime cose da fare, De Santis risponde, si deve operare collegialmente e con lealtà. Per Di Benedetto servirà una ricognizione del lavoro dell'amministrazione uscente e si deve invitare la Giunta a dare dei consigli. Secondo Pietrucci, il pluralismo è una risorsa, non un limite. Lavorerò con grande mediazione e sostiene. Da oggi fino a martedì 27 giugno 2017, limitazioni per lavori sulla strada statale 16 Adriatica tra le province di Teramo e Chieti. Lo comunica ANAS. Nel dettaglio in tratti saltuari tra il km 391 e il km 524 sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo con il limite di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento necessario per consentire i lavori di asfaltatura coinvolgerà i territori comunali di Giulianova, Tortoreto, Pineto e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, Ortona, San Vito Chietino, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casal Bordino e Vasto in provincia di Chieti. La vendita della casa di riposo Stella del Mare di Francavilla mette a rischio le sorti di 20 lavoratori. La vicenda dal tavolo della Fialz è destinata ad arrivare in Piazza San Pietro. La vendita degli immobili di proprietà di un istituto religioso sarà portata all'attenzione di Papa Francesco. Ci sono 20 lavoratori tra operatori sanitari e sociosanitari e personale addetto che rischiano il posto nella vicenda della vendita della casa di riposo Stella del Mare di Francavilla. La cessione degli immobili sul lungomare al confine con Pescara che ospitano anche un asilo resta avvolta da un alone di mistero. I proprietari della struttura, l'istituto religioso Sorelle della Misericordia, ai rappresentanti della Fialz che hanno chiesto spiegazioni, avrebbero negato qualsiasi cessione e oggi, spiegano sempre dalla Fialz, nonostante gli anziani stiano cominciando a lasciare la struttura, ai lavoratori non è stato comunicato nulla. C'è solo una lettera indirizzata dall'istituto religioso alla cooperativa di Grosseto che gestisce la residenza per anziani e l'asilo e per conoscenza agli acquirenti degli immobili, una struttura alberghiera di Silvi che evidenzia la disdetta del contratto di locazione e la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita in data 18 novembre 2016, registrato a Pescara il 7 dicembre dello scorso anno. L'atto di compravendita, si legge sempre nel documento, è fissato per il 30 settembre, data in cui i locali dovranno essere liberi. In questo lasso di tempo la Fialz e i lavoratori hanno programmato iniziative di protesta a partire dal giorno di Pasqua in cui saranno in Piazza San Pietro per esporre uno striscione sotto gli occhi di Papa Francesco. Noi stiamo facendo iniziative, innanzitutto siamo andati al Comune di Francaville dove abbiamo riscontrato un pochissimo interesse, il sindaco non si è fatto trovare, l'assessore pochissimo interesse. Noi stiamo organizzando per il giorno di Pasqua andare a Piazza San Pietro con gli striscioni dove chiederemo l'impegno anche di Papa Francesco, il suo interessamento a questa cosa assurda che non è perfettamente in linea a quello che lui sta predicando un po' da diversi mesi. Il Comune di Pescara e l'Istituto Comprensivo 10 hanno presentato una iniziativa solidale per Farindola duramente colpita dalla tragedia di Rigopiano. Vediamo. 50 studenti di Farindola saranno ospitati a Pescara il prossimo 5 aprile per una giornata particolare. Il progetto nasce da un'idea maturata grazie ai rapporti tra le scuole l'indomani della tragedia che ha colpito la località montana. La primaria montale del Comprensivo 10, l'Istituto Aterno Mantonè, il Liceo Scientifico Galilei si sono strette all'Istituto Comprensivo Civitella Casanova che ingloba Farindola mettendo in piedi il progetto che prevede due fasi. I nostri ragazzi avevano bisogno di uscire per poter tornare sul territorio ed elaborare quello che è accaduto in modo da riprendere una vita normale, ha detto Rossella Di Donato, preside del Comprensivo Civitella Casanova. Useremo questa opportunità per riprendere un cammino positivo con i ragazzi e con la comunità. Questa iniziativa è nata in sordina, sentendoci con la collega San Vitale dell'Istituto Mantonè già nei giorni della grande nevicata e con grande accortezza da parte sua c'è stato un interessamento rispetto a quello che stava accadendo, rispetto alla vita di questa comunità, alla dimensione emotiva che si stava vivendo, prima ancora che la scuola venisse riaperta dopo gli eventi che hanno chiaramente drammaticamente colpito tutta la comunità scolastica. E poi sentendoci insieme, anche con gli altri colleghi del Galileo e dell'Istituto Comprensivo 10, è nata questa iniziativa da parte loro di avviare comunque un'esperienza di condivisione che fosse un'occasione per i nostri ragazzi per trascorrere comunque delle giornate diverse all'insegna dell'amicizia, un'apertura del territorio, ma poi anche un'occasione per poter riaccogliere i ragazzi di Pescara nel nostro paese proprio per poter rivivere la dimensione di comunità sempre più allargata come Farindola Merita di essere. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara, tutto esaurito già da diversi giorni per la gara di domenica prossima all'Adriatico Cornacchia contro il Milan, partita che sarà diretta da Mazzoleni di Bergamo. Il presidente Sebastiani parla della vigilia di questo match di prestigio. Vediamo. Presidente Sebastiani, domenica arriva il Milan, una grande partita, stadio pieno, il cassiere biancazzurro sarà sicuramente soddisfatto. A proposito di biglietti avete avuto richieste da tutta Italia, in pochi potranno però vedere questa partita. Purtroppo la capienza dello stadio è quello che è. Abbiamo tanti tifosi abbonati, per fortuna quelli che ci seguono sempre non hanno problemi nel vedere la partita e poi è chiaro che quando arrivano le grandi squadre arrivano i tifosi da tutte le parti. Dispiace perché ad avere uno stadio più capiente sarebbe stato ancora un spettacolo maggiore, però quelli sono i posti quindi quelli abbiamo potuto vendere. All'andata il Pescara San Siro giocò una grande gara, fu beffato da una punizione di Buonaventura. Basterebbe forse rivedere quel Pescara per essere soddisfatti? All'andata io penso che, non voglio spingermi oltre, ma se c'era una squadra che doveva vincere certamente forse quello era il Pescara perché abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo preso un gol così balordo, ne abbiamo segnato uno che a mio avviso a parte invertite sarebbe stato regolare, però stai giocando sempre nel tempio del calcio e contro il Milan. Oggi sicuramente sarebbe già sufficiente ripetere quella prova, però il Pescara io penso che farà la sua partita come ha sempre fatto. Poi è chiaro che noi non siamo capaci di giocare in maniera diversa, ancora di più oggi che c'è questo allenatore, ma anche prima con Massimo Oddo noi cercavamo sempre di imporre il nostro gioco, poi è chiaro che la Serie A ha livelli importanti e quindi difficilmente riesce a ottenere risultati, però io penso che il Pescara farà la sua gara e cercherà di imporre il proprio gioco anche domenica contro il Milan. Al di là della gara con il Milan, Presidente, per chiudere voi state continuando già da tempo a lavorare per la prossima stagione, che sia Serie A o Serie B? Ma quello è un lavoro continuo, che non è che fai perché la stagione va bene o va male, il lavoro di una società di calcio impostata come azienda calcio deve essere quella sempre, durante tutta la stagione, in ogni mese dell'anno, per cercare di portare dei ragazzi che poi possono essere in prima battuta utili per il tuo cammino e poi eventualmente per i tuoi bilanci. E ora la Lega Pro, il Teramo questa mattina ha sostenuto la seduta di rifinitura in vista della partita di domani alle 18.30 al Bonolis contro la San Benedettese, poi è stata diramata la lista dei convocati, mancano Imparato e Petrella, entrambi infortunati, torna tra i convocati il centrocampista Baccolo, anche se il tecnico Ugolotti dovrebbe confermare la formazione vista a Mantua con una possibile novità nel ruolo di trequartista, il giocatore che aggira alle spalle dell'unica punta Sansovini, c'è un ballottaggio tra Fratangelo e Tempesti, con Fratangelo decisamente favorito. Ascoltiamo come il tecnico Ugolotti ha presentato questa partita e come ha parlato dell'attuale momento del Teramo. Siamo al punto che ogni partita per noi è importantissima. Veniamo da due partite in cui siamo riusciti a fare risultato e dobbiamo continuare perché la classifica ce lo impone. I ragazzi si sono allenati in maniera positiva, perciò io da quel punto di vista sono tranquillo, sono tranquillo che faremo la partita che dobbiamo fare. A me interessa la squadra, il resto è di conseguenza i risultati, io guardo l'aspetto della squadra, l'aspetto del campo. La partita di verità è quella con la San Benedettese, io guardo, ve l'ho già detto l'altra volta, guardo partita per partita. Noi siamo messi in una condizione che non possiamo sbagliare nessuna partita, perché se dovessimo sbagliare la partita con la San Benedettese probabilmente la partita con l'Ancona avrebbe un aspetto diverso. Noi dobbiamo, i ragazzi lo sanno, siamo in una condizione di classifica per cui oggi sbagliare una partita così poche giornate dalla fine sarebbe deleterio, perciò la mentalità è quella di guardare partita per partita. Che avversario si aspetta? È un avversario importante, perché è stato capace dopo una lieve crisi di tre risultati negativi di fare in quattro partite, mi sembra che ha fatto dieci punti. È una squadra che ha il capocannoniere del campionato, di conseguenza sicuramente col morale alto, hanno lì a portata di mano posizioni importanti di classifica, vedo che già stanno programmando un futuro prossimo, di conseguenza penso che abbiano programmi importanti e non vogliono sbagliare quest'anno, di conseguenza mi aspetto una partita molto ma molto difficile. Il discorso è sempre quello, se si prendono pochi gol indubbiamente si tiene la partita in equilibrio, probabilmente in questo momento occasioni da gol, io vedo un pochettino tutte le partite, non è che anche le altre squadre ne creano molte, molte si preoccupano di concedere poco, io penso che la via giusta sia quella. Dietro abbiamo concesso poco, stiamo cercando a parte la partita con il Gubbio, torno a ripetere che è un episodio a parte perché indubbiamente fare sei gol in una partita è cosa molto rara, però a me interessa il fatto che anche fuori casa siamo arrivati 4-5 volte, piano piano, forse dovevamo sbrigarci un attimino prima, però piano piano speriamo di continuare su quella strada. Io dico che questa squadra ha le possibilità per salvarsi direttamente, dipende solo ed esclusivamente da noi. Grande attesa anche in casa San Benedettese, la squadra di Sanderra sta vivendo un ottimo momento, sta risalendo in classifica, ora è al sesto posto ma il Gubbio è a un punto e la Samb mira anche a superare la Reggiana. Ascoltiamo come il tecnico Sanderra presenta il match di domani. Una prova importante, un test importante, penso che ci vorrà un grande sforzo, saremo messi a dura prova da una partita che la ritengo molto dura e difficile, anche temibile per diversi motivi, perché il Teramo si è ritrovato, perché è una squadra secondo me composta di giocatori importanti, si è ritrovato soprattutto come mentalità agonistica, negli ultimi due video delle ultime due partite li ho visti molto concentrati, ben messi e anche molto aggressivi, quindi ci aspetta una partita in cui ci vorrà il meglio di noi stessi, siamo pronti a farlo perché la squadra comunque sta bene, ha lavorato bene e adesso deve avere la maturità giusta di continuare anche in partite così difficili a fare comunque una buona prestazione e di conseguenza il risultato. L'approccio vale per tutte le partite, ma in questo tipo di partite, in quel campo, secondo me vale molto di più, quindi credo che bisogna sapere interpretare da subito, dai primi palloni la partita nella maniera giusta. E qui sicuramente incontreremo una squadra che ci metterà in difficoltà, perché come ha fatto il Feralpi sono convinto che anche loro cercano di accentuare magari la riduzione di spazio-tempo, non so, a Bacinovi c'è la nostra fonte di gioco e lì dovremmo essere bravi a svincolarci da questo. Mi ero raccomandato ai ragazzi di fare un lavoro mentale, di spogliarci subito dalla parte, dalla buona prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa nel senso giusto, nel senso di non rilassarci su quello che di buono abbiamo fatto, anzi di intensificarlo, quindi di avere ancora più fame di quello che abbiamo avuto. Oggi i nostri esterni sono il nostro punto di forza, se li facciamo lavorare bene, con la sincronia giusta, col centro avanti, possono essere le loro partite, anche perché questa è una squadra che se la lasci giocare ti mette sotto, però forse se dietro le spalle dei loro difensori qualche cosa possiamo creare e quindi là abbiamo velocità negli esterni, quindi in questo senso è una partita importante anche per loro. E ora la Serie D contro la rovescia per il derby tra Avezzano e l'Aquila che dopo l'antipasto di agosto in Coppa Italia torna in campionato al De Marse a distanza di 23 anni. La presentazione affidata alle parole del tecnico marsicano Tortora. Tortora allora, domenica c'è questa partita con l'Aquila che arriva dopo la vittoria di Rieti, è un derby sentitissimo che torna ad Avezzano dopo 23 anni, una partita che in un certo senso può valere anche la stagione. Ma può valere la stagione dipende dai punti di vista, per noi è una partita importante, è chiaro che sappiamo in quale condizioni giocheremo perché praticamente non so che partecipazione ci sarà da parte dei nostri tifosi, però è chiaro che ce la metteremo tutta per portare dalla nostra parte la partita sicuramente. Una gara difficile come tutte con una formazione all'Aquila che nonostante le tante defezioni delle ultime settimane nell'ultimo turno ha battuto in pratica con tanti ragazzi in squadra all'Alba Longa per 3-1. Io credo che tutto il rispetto per i ragazzi che non ci sono, che sono andati via, credo che l'Aquila abbia una rosa, una squadra da primissimi posti sicuramente, i play-off per la rosa che ha e stanno stretti, sono giocatori importanti, immaginatevi un po' se fossero stati tutti al completo alla fine. Poi giocano 11, noi sappiamo che stiamo bene, che sappiamo che è una partita importante, è una partita di cartello, ripeto faremo di tutto per vincere anche se sarà molto difficile. A proposito di play-off di cui lei parlava qualche istante fa, sotto sotto ci sperate ancora? Ma finché la matematica non ti condanna bisogna sempre sperarci, se non ci sarebbe motivo avere ancora, poi la caratteristica delle mie squadre è quella di giocare fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di campionato, l'ultimo secondo di campionato sempre con la stessa intensità, quindi ci sono ancora 6 partite, sono 18 punti, potrebbe succedere tutto, non è facilissimo, però non ci proviamo fino alla fine. Finisce qui anche la seconda edizione del TG6, questa sera alle 23, la terza edizione del nostro notiziario. Buona serata. Buona serata.